Jerry, vieni su Jerry, Jerry Lunardi che è un pittore che ne ha voluto omaggiare, fare omaggio di questo quadro che è un quadro che anche parla dell'altopiano, però veloce è. In 2010, qua si inaugura la linea ferroviare dell'Occhetti Asiago, pensando a Rossi che dovessi nominare il secondo gruppo tessi del mondo, 19.600 dipendenti, decidi di tornare a noi di Denna, perché qua su non c'è nessuno. Ci sono quattro locomotive, la prima di partenza che erano tutti, la seconda del mio comune di trans formale, la Carizzanziavo e la Quarta Ero, Rossi. Questa è quella che aveva fatto. Un motivo in più per ricordarsi dell'altopiano, Presidente. Grazie. 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 Grazie, grazie. E amini, chiedo ja, arrivedermi. Grazie a tutti. Buonasera a te. Grazie.